E' stata inaugurata sabato 5 marzo la mostra Incanti e Scoperte, l'Oriente nella pittura dell'Ottocento italiano, presso Palazzo della Marra, sede della Pinacoteca Denittis, che sarà fino al 5 giugno il luogo dove la curiosità occidentale racconta paesaggi, figuri e usanze dei paesi levantini, immirabili e suggestive opere. La mostra, promossa dalla Regione Puglia e dal Comune di Barletta, curata da Emanuela Angiuli e Anna Villari, è organizzata in quattro sezioni tematiche, al di là dell'Adriatico, paesaggi, le città e gli incontri, sognando le udalische, ed è attualmente una delle esposizioni nazionali più approfondite sul tema dell'Orientalismo. In Canti e Scoperte, l'Oriente nella pittura dell'Ottocento italiano restituisce le prospettive di un crocevia fra due mondi, estranei ma vicini, incontaminati ma intrecciati. Grazie.